Musica Pressione in ulteriore calo su tutto il Mediterraneo centro-occidentale, con forte gradiente barico da sud-ovest sulle coste liguri e tirreniche. Domenica 3 novembre in Toscana cielo molto nuvoloso, con piogge sparse in mattinata, diffuse dal pomeriggio anche a carattere temporalesco. Tendenza ad attenuazione delle piogge in serata. Venti fino a forti di libeccio sulla costa e sui rilievi, deboli e un moderati nelle zone interne. Mari molto mossi, tendenti ad agitati sulla costa centro-settentrionale in serata. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone settentrionali. Sulla nostra provincia pioggia con temporali nel pomeriggio. A Lucca temperatura minima 14, massima 19 gradi. A Castelnuovo minima 11, massima 18 gradi. A Viareggio minima 16, massima 20 gradi. A仁 a a a Grazie a tutti.